Radio CSDR presenta il podcast Words and More Parole e Altro, una voce fuori dal coro che parla di umanità, informazioni e cultura in modo semplice. Buon ascolto! L'alga Marimo e la sua leggenda La storia che sto per raccontarvi affonda, letteralmente, le sue radici in un lago. Protagonista di questa leggenda è una simpatica alga a forma sferica dall'intenso colore verde scuro comunemente conosciuta col nome di Marimo. Marimo in lingua giapponese significa biglia, appellativo dato l'intorno al 1820 dal botanico giapponese Kawakami. L'alga Palla, oltre al suo intenso colore, è formata da sottilissimi e morbidi fusti che assorbono nitrati e nitriti presenti nell'acqua convertendoli in ossigeno. Proprio durante il processo di fotosintesi clorofeliana, se osservata la luce, si possono notare piccole sfere di ossigeno attaccate ai fusti che vengono emesse dall'alga. Durante la fotosintesi, l'alga Palla si lascia flutture nell'acqua come se danzasse. Questo ondeggiare ipnotico prende il nome di Danza del Marimo, particolare che la rende ancora più affascinante. Ha una crescita lentissima che non supera 5 mm l'anno e la grandezza dei suoi esemplari di solito si agita tra i 3 e i 10 cm. È una pianta acquatica davvero longeva, può arrivare a vivere oltre 200 anni. Solo tre laghi al mondo hanno l'habitat perfetto per ospitare le colonne di Marimo e si trovano in Giappone, Estonia e Islanda. Vive sui fondali temendo la luce diretta del sole e non paventa le temperature fredde. Fu scoperta intorno alla prima metà dell'Ottocento, proprio dal botanico che le diede anche il nome, Kawakami, sulle sponde dell'acola Kahn. Il suo eccezionale rinvenimento divenne ben presto di interesse nazionale, tanto che già nel 1921 il governo nipponico dichiarò al Marimo tesoro naturale giapponese e specie protetta, inaugurando anche un museo dedicato all'alga Palla e alla sua storia. Troppe persone, spinte dalla curiosità e dalla leggenda adesso legata, si riversarono sulle rive del lago per cercare di appropriarsi, anche in modo non legale, di un esemplare di Marimo, procurando di fatto un grave danno all'ecosistema delle colonie, che vennero colpite duramente anche dalla costruzione di una centrale idroelettrica poco distante dallo specchio d'acqua, sempre nei primi del Novecento. Intorno alla metà del secolo scorso, invece, proprio gli abitanti del luogo compresero il grave pericolo in cui riversavano le colonie di Marimo e si attivarono per proteggerle e salvaguardarle il più possibile, istituendo anche il Festival del Marimo, famoso e celebrato ancora oggi. Da sempre il Marimo, oltre alla sua importanza nell'ecosistema dei luoghi dove si sviluppa, è simbolo di buon auspicio e di amore eterno. Viene donato solo a chi si vuole bene, infatti, vista la sua secolarità, le famiglie lo tramandano di generazione in generazione, come se fosse un talismano in grado di favorire la longevità e l'abbondanza. È considerato un potente portafortuna, e sembrerebbe riuscire a esaurire i desideri di chi lo dona e di chi lo riceve. Sopra ogni cosa, a quest'alga è legata una leggenda giapponese bellissima e struggente che voglio raccontarvi e inizia così. C'erano una volta due giovani perdutamente innamorati. Le famiglie di entrambi però osteggiavano il loro rapporto. Un giorno la coppia decise di fuggire lontano, ritrovandosi sulle sponde dell'aco Akane. Sulle rive del lago i due ragazzi si giurarono un amore eterno e i loro cuori si trasformarono in due marimo, così da poter vivere uno accanto all'altra per l'eternità. La leggenda dei due innamorati ha permesso a questa pianta di diventare il simbolo di chi siamo. Il marimo infatti viene donato solo a chi si vuole veramente bene, perché è emblema di un rapporto profondo e duraduro. Adottare o ricevere in dono un marimo comporta a dispetto di semplici e basilari regole. Come? Mantenerlo sempre in un recipiente rigorosamente di vetro immerso nell'acqua, non esporlo alla luce diretta del sole e ospitarlo in un luogo fresco, cambiare l'acqua ogni due settimane circa, aggiungendo di tanto in tanto dell'acqua frizzante, per agevolarne la danza e la fotosintesi clorofinale. Pulire il contenitore del marimo con attenzione per rimuovere eventuali residui di calcare, rigirare soltariamente e con delicatezza il contenitore come a simulare il ritmo delle onde. Le semplici e basilari regole per una buona manutenzione del proprio marimo hanno facilitato l'arrivo della gavalla in molte case, compresa la mia. Certo è che questa pianta acquatica è entrata nell'immaginario collettivo per molteplici fattori, dalla leggenda a cui è legato alla dolce e ammaliante danza che dona a splendore al suo abbraccio con l'acqua e al perennio ricordo di un amore immortale, offrendo un tocco di originalità che cattura e incanta sia chi lo dona e chi lo riceve. Grazie per la visione!